Il giorno che riuscirò ad impostare luci e il bilanciamento del bianco nelle foto dopo 50 anni di YouTube sarà sempre un buon momento, però nel frattempo, piccolo dettaglio, super bello, il mio cerchietto di tulip, che tra l'altro è stato dipinto a mano, nel senso la sua che è stata dipinta a mano e piccita a mano, quindi vi lascio giù il link in descrizione perché dovete andare a seguire Martina. Finita questa cosa qui, siamo qui per sfogliare il Burda, il primo del 2021, mi è arrivato adesso, nel senso ho finito di mangiare, l'ho ricevuto e adesso mi metto qui a sfogliarli insieme a voi, anche perché, piccola chicca, cioè secondo me questo è un numero che spacca, perché modelli in stile retro belli, ce ne sono diversi che mi sono piaciuti molto, e in più anche modelli d'archivio, per cui top, modelli curvi anche mi sono piaciuti, per cui, insomma, direi che non perdiamo altro tempo e lo sfogliamo direttamente insieme. Ah, e se ancora non lo fate, andatemi a seguire su Instagram, perché ho cominciato a fare delle live con cadenza un po' casuale, però se mi seguite lì, insomma, andiamo a cucere insieme qualcosina, per cui vi lascio anche giù il link in descrizione per seguirmi su Instagram, così non vi perdete le live dove cuciamo cose a caso e io faccio un sacco di pasticci, ma ci divertiamo insieme. Allora, iniziamo direttamente dal primo modello contenuto all'interno della rivista, infatti il 2020 è finito, quindi i cartamodelli extra anche, perché ovviamente è finito il settantesimo anno di burda, e quindi non ci sono modelli extra scaricabili gratuitamente sul loro sito. Allora, il primo modello è quest'abito, chemisier, carino per le ricciature qui in dita, taglie lunghe, quindi tabella di riferimento per persone un pochettino alte. Difficoltà 2, grazioso la stampa anche, non mi dispiace, è appunto, è un po' in stile retro. Poi abbiamo quest'abito qui, col principe di Galles, molto carino da bimba, taglie 116-140, fanno riferimento all'altezza, e difficoltà 2, manica corta, bellissimo qua il faldone sul davanti, bella, molto carina. E qui c'è invece questa mantella, sempre a difficoltà 2, taglie 36-44, elegante, anche questo è in stile retro, praticamente come se fosse una mezza ruota con il collo. Taglie corte invece il pantalone, che è molto bello, mi piace molto perché ha le pants, quindi nasconde, camufa un pochettino il fianco largo, come ce l'ho io, e invece si stringe un pochettino di più sulla caviglia, molto carina. Appunto taglie corte, quindi fate riferimento alla tabella delle taglie corte, e poi è a difficoltà 3. Anche la maglia, questa qui è appunto con il maxicollo, avete il cartamodello, 36-44 dettagli, difficoltà 2, ha le culisse sui polsini, quindi sono elasticizzati i polsini. Poi qui abbiamo una gonna a tubo, anche questa in principe di Galles, con questo dettaglio, insomma, sul fianco, lo spacchetto dietro, queste 36-44, difficoltà 2. Sempre tutti i modelli a ispirazione retro. Poi, qui abbiamo il bolero da bimba, con il bottoncino sul collo, anche questo è comunque molto semplice, difficoltà 2, sempre tagli 116-140. Quest'abito favoloso, veramente bello, con tutta questa gonna molto sagomata in vita, il dettaglio qui sul corpino sopra, il collo, molto bello, è molto particolare, infatti è molto anche insidere pro. Taglie 36-44, difficoltà 3, infatti, però veramente carino. Poi abbiamo questa giacca, anche questa, insomma, è una classica, giacca sia aderente, la chiamano, ha il nodo qui sul collo, che si vede poco, lo si vede meglio sul, come si dice, sul disegno qui. C'è anche la gonna, che è la stessa di prima, e questa difficoltà 3, 36-44 dettagli. Questa è molto bella, questa è una blusa con il volant, tra l'altro il doppio volant sulla manica, molto bella, il nodo anche qui sul collo e la pence sul seno. Difficoltà 2, 36-44, questa è molto molto carina, i pantaloni che hanno abbinato, mi piace tanto. Poi qui c'è un bluson normalissimo, con il polsino sia sul fondo che sui polsi, appunto, senza collo, praticamente, con la zip davanti. Taglie 34-42, difficoltà 3. Poi c'è questa maglia, sia per bimba che per donna, insomma, c'è la scuola di cucito. E la maglia, questa qui, perdonna, è taglie 34-44, difficoltà 3. Questa qui, invece, per la ragazza, è difficoltà 2, 116-140. E questa microstampa a pua, come, è molto bella, e secondo me anche in micro piedi pull viene una meraviglia, che è quello lì che ho suggestito, secondo me con quel tessuto lì viene molto bello. Comunque questa qua è la maglia, mi piace molto, il colletto così tonno è molto bello. Tutte le istruzioni illustrate. Poi, questa qui è una maglia, anche molto bella, questa anche un po' retro, sempre con il piocco sul davanti, le pants sotto il seno, però cade un po', è un vesto un po' più aderente, infatti è tessuto in jersey. È difficoltà 2, 36-44, dettaglie. Lo stesso abito che abbiamo visto prima, qua c'è una t-shirt in maglia molto carina, è molto basic, molto d'archivio, quindi difficoltà 2, 36-44. Qui abbiamo la mantella di prima, qui la vedete con uno stile completamente diverso, però è molto più portabile, avete i bottoni nascosti, quelli o magnetici o a pressione. Difficoltà sempre 2, qui invece c'è una gonna che è praticamente come la gonna che abbiamo visto prima, solo che è ampia, non è a tubo. Infatti mi piace anche di più questa versione, sempre a difficoltà 2, 36-44, dettaglie. Poi c'è quest'abito qui, che ha questa linea che spezza, secondo me, non so, non mi piace, questo è uno degli abiti che non mi piace, c'ha comunque il volano anche, cioè sia sulla parte bassa della gonna, ma anche sulle maniche, e ha un elastico così in vita. Niente di che, taglie, 36-44, difficoltà 2. Qua invece c'è la maglia, che è praticamente la versione a maniche lunghe, penso, con i polsini con l'elastico. Credo sia molto simile comunque alla t-shirt di prima, ed è sempre a difficoltà 2, 36-44. Poi abbiamo questa maglia qui, invece, una blusa molto più particolare, mi piace il dettaglio qui sul girocollo. La manica a tre quarti, top, sapete che io sono tipo matta per la manica a tre quarti, mi piace tantissimo. È molto semplice, anche questa ha difficoltà 2, e le taglie sono 34-44, quindi anche taglie un pochettino più piccole. Questo è il pantalone di prima delle taglie corte, che secondo me è bellissimo. È una difficoltà 3, ha diverse pants, comunque c'ha anche la cerniera, però molto bello. Avete tutte le istruzioni con i cartamodelli. Dopo le istruzioni avete un progetto dedicato agli amici a quattro zampe, ed è contenuto nella sezione dei cartamodelli gratuiti sul sito di Burda, per cui andate sempre a controllare la sezione. Poi, must have, ispirato alle tendenze, comunque alle passarelle, il soprabito, questo qui, il similpelle. Mi piace la linea, il similpelle non è una cosa che mi piace particolarmente, in più con questa stampa un po' così, cos'è, tipo codrillo, cos'è? Boh, non lo so, vedete, non sono neanche particolarmente afferrata, comunque non mi piace. Se vi piace, comunque 36-46 le taglie, arrivo fino a 46, difficoltà 3. Poi, questo invece mi piace tanto. Questo è tipo un cardigan con un incrocio e la cinta qui sulla vita, e mi piace molto, ha difficoltà 2, quindi è facile, ed è 36-44 le taglie, è molto carino questo. Poi abbiamo questo pantalone qui, comodo, tuta, largo, classico, culisse in vita con il nastrino, 36-44, difficoltà 2. Questo è il blue zone di prima, per cui non mi soffermo, lo vedete un po' più sul davanti, in un'altra fantasia. Questo abito è molto particolare perché ha questo, diciamo, collo un po' da maglione, no? Sembrano quei maglioni un po' invernali, molto carini, però in realtà è un abito lungo, è anche bello ampio sotto, ha una bella linea, difficoltà 2, tra l'altro, per cui è anche abbastanza semplice, è 36-44 le taglie. Comunque è in un tessuto maglia. Questo qua, invece, è la maglia che abbiamo visto prima, quella col collo, il maxicollo, ma è fatta in felpa, con un tessuto felpa. Quindi in realtà diventa proprio una roba un po' più casual, comoda, è anche abbastanza elegante, è bella. Comunque anche questo color panna è molto carina. Difficoltà 2, 36-44. C'è questa qui, invece, che è un mini abito, ma che non mi piace. Ha questa bottonatura davanti. Non so, questo qua non mi piace particolarmente, però c'è la scuola di cucito. Difficoltà 2, 36-44. Poi vi mostrano come realizzare delle mascherine per dormire, è abbastanza semplice, comunque c'è tutto il tutorial fotografico. Poi avete le... A moda curvi. Ecco, siamo già sul moda curvi. Allora, questo è uno spolverino lungo. Difficoltà 2, bello, bella anche la fantasia che hanno scelto. Ha, praticamente, ha le tasche, se non sbaglio, perché sembra che ci siano le tasche dal disegno, e ha i polsini con le nasce. Comunque è molto carino, e secondo me con un tessuto anche un po' più morbidoso può diventare anche un bel maxi carbigan molto comodo. Poi abbiamo il Super Easy, una t-shirt che però cade abbastanza morbida, per cui ha le spalle un po' che scendono. Taglie 44-52. Vi ho detto 44-52, difficile per 2, sì. Difficoltà 1, questo, appunto, è Super Easy. Invece è molto carino l'abito. Questo qua, che è molto semplice, però secondo me è molto bello, e sono contenta che l'hanno messo per le taglie curvi, perché così, insomma, lo si vede spesso in giro, e secondo me poteva essere anche interessante per tutte le taglie, insomma, per realizzarlo. Ha la buona ricciata, le pence sotto al seno, e 44-52, difficoltà 2. Bello. Questa è la maxi t-shirt di prima, questa è bella, invece, perché sembra una, tipo, sì, una shirt, vabbè, una maglia, ok, facciamo le cose semplici, però, a parte che ha le pence sotto al seno, ma ha queste maniche, che qui sembrano chiuse, in realtà sono praticamente dei quadrati aperti che scendono così. Quindi crea questo effetto un pochettino più fluttuante, molto carino, un po' così, svolazzante, e ha anche degli spacchetti sulla parte bassa. Questa mi piace molto. 44-52, difficoltà 2. Qua c'è un pantalone, molto classico, con le tasche, anche questo comunque un modello d'archivio, 44-52, difficoltà 2. Poi qui, diciamo, la versione della stessa maglia di prima, forse l'hanno fatta un pochettino più lunga, e infatti, in realtà, se l'allungate, poi diventa anche un abito, poi ci potete fare una cinta in vita, insomma, la potete anche personalizzare. Qui invece vi mostrano un abito fatto, penso, similar t-shirt di prima, un abito dritto comunque, ha la cucitura in vita, lo potete usare o con una cinta, o magari ve la fate voi con la stoffa, e ha i polsini arricciati. Questo qua è a difficoltà 2, sempre 44-52. Poi, qua c'è una tutorial, per realizzare dei accessori, così, per le feste, in realtà, che possono andare bene per qualsiasi festa, come regalo, insomma, di cucito. In realtà, si parla ancora di Natale, anche se Natale a gennaio è un po' passato, però, insomma, potete sempre prendere spunto per le vostre idee creative. E poi, la sezione come si fa, questo è interessantissimo, perché vi mostrano come foderare le gonne, e quindi ci sono tutti gli step, per andare a creare i dettagli, insomma, sui diversi tipi di gonna, per le fodere. Questo, secondo me, è molto utile da leggere. Anticipazioni per febbraio, super colorato, la prima cosa che ho notato, super colorato. Ci sono, ci sono dei modelli abbastanza normali per adesso, linee molto, molto definite, infatti, secondo me, è un po' il mood del prossimo numero. Il 20 di gennaio lo scopriamo, perché uscirà in edicola. Quindi, questo è tutto quello che era contenuto, all'interno del burda di gennaio. Io spero vi sia piaciuto come numero, perché a me è piaciuto molto, infatti, fatemi sapere qual è il vostro modello preferito. Se non siete iscritti al canale, potete farlo, è gratis, e, insomma, potete andare a sfogliare sul mio canale, perché trovate diversi tutorial, di abiti, senza carta modello, ma anche con carta modello, diviso le playlist, quindi andate a guardare tra le playlist, così fate prima. e vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, per essere stati in mia compagnia. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!